Perché ci crediamo? Qualcuno su quel credo ci prendeva in giro. Bene, chi non crede in se stesso, chi non crede nella propria famiglia, chi non crede nella propria azienda, nel proprio lavoro e nella propria terra, forse non dovrebbe far politica, perché chi fa politica deve farlo negli interessi del proprio territorio e della propria gente. Questo ci hanno insegnato e questo noi porteremo avanti. Quindi viva la Lega, viva Genova, viva la Liguria e noi puntiamo a essere i primi, puntiamo a che Genova sia la prima città del Mediterraneo con più alta qualità di vita. Questo è il nostro obiettivo.